Primo test interno per il Brindisi dopo il ritorno dal ritiro di Camigliatello Silano. La formazione Biancazzurra ospiderà per un allenamento congiunto rigorosamente a porte chiuse lo Stuni, formazione neopromossa nel campionato di eccellenza. Quarta partitela per Mister De Luca dall'inizio della preparazione, ma la prima che si svolgerà al Fanuzzi, un'occasione anche per prendere confidenza con l'impianto di gioco brindisino, per i calciatori che per la prima volta indossano la maglia Biancazzurra. Un test sicuramente interessante dopo i due successi contro altrettante formazioni di prima categoria calabrese ed il pari contro il Castrovillari, che ha sicuramente messo in evidenza luci ed ombre, in particolare nel reparto arretrato, che dovrà comunque essere completato nei prossimi giorni. Ovviamente un'occasione anche per la formazione ostunese per fare il punto sul proprio stato di forma, con entrambi i campionati di Serie D ed eccellenza che prenderanno il via il prossimo 27 settembre. Per lo Stuni ci sarà l'anticipo della Coppa Italia, competizione annullata invece nel campionato di Serie D. Il Brini si ritroverà ad avversario Hannibal Montaldi, che ha disputato la prima parte dello scorso campionato con la formazione adreatica, per poi lasciarsi, non senza polemiche, a dicembre per trasferirsi a Bitonto.